Oggi, ma in realtà ci verranno almeno un paio di video, vogliamo farvi esplorare una soluzione per lo storage più sofisticata dei semplici file di testo che abbiamo già avuto modo di provare qualche video fa e prenderemo come riferimento proprio la stessa to-do list gli obiettivi che ci poniamo sono sostanzialmente tre uno è gestire appieno il modello dati rappresentato dal to-do item sfruttando il pattern chiamato repository fatto questo, creare per SQLite in locale un suo repository cominciamo con l'aggiungere la classe to-do item nella cartella modals nel file to-do item.dart noterete come qui si sia adottato come tipo di dato però per il campo completato se ricordate in origine una bool questo int per evitare complicazioni nelle conversioni tra SQLite che non supporta il tipo bool ma che potremo emulare con int e gli oggetti json che ci ritroveremo poi a gestire con il codice dart come si diceva poc'anzi non ci interfacceremo direttamente al SQLite ma tramite la mediazione di un repository che ci permetterà un domani di cambiare facilmente la sorgente dei dati senza impazzire a modificare o ribaltare il nostro codice aggiungiamo la cartella repository e al suo interno il file data repository.dart l'idea è quella di tra virgolette costringere gli utenti di questo repository se lo vogliono fare a rispettare una certa interfaccia meccanismo che con questo esatto nome non esiste in dart ma di fatto facilmente aggirabile perché qualunque classe astratta può fungere in dart da quello che avremmo definito interface in tanti altri linguaggi e qui andremo a denumerare tutti i metodi necessari per la gestione di una to-do list classe che voi vedrete davvero minimale e aggiungiamo che di solito un database contiene anche più tabelle tutte tra di loro correlate da associazioni uno a uno, una molti a molti se qualcuno ha seguito la playlist sulla progettazione di database sa di che cosa sto parlando e ogni tabella dovrebbe avere il suo repository e l'intero database è gestito da un repository globale che espone poi i singoli repository vabbè, noi pensiamo un po' più in piccolo e questa è la classe astratta noterete che tutte restituiscono una future quindi utilizzeremo a piene mani il meccanismo async await e sempre a livello di bozza aggiungiamo anche la home screen nella cartella screens questo home screen dart che ormai immagino la maggior parte di voi saprà leggere proprio a colpo d'occhio e qui senza stare a rispiegarlo tutte le volte utilizziamo tanti piccoli particolari come la variabile statica che useremo poi per le route eccetera eccetera safe area beh, visto che l'abbiamo citato andiamo anche ad impostare, ad abbozzare il gestore per le routes cartella utils file router dart e qui apro una piccola parentesi perché ci siamo accorti di aver commesso nel capitolo sul navigator un errore di aver indicato il parametro contest oltre ai settings nei parametri del generate intendiamo che in realtà non è necessario perché sarà fornito direttamente dal navigator quando richiamerà la funzione anonima del parametro builder quindi niente context qui una celgina in modo logico tira l'altra abbiamo impostato qua la path su route che andremo a sfruttare nel main dart e coerentemente, rilacciandoci all'errore citato prima qui nel chiamare la funzione, a differenza di quanto abbiamo fatto non va indicato il parametro context ce n'è a sufficienza per una build preliminare della app giusto per verificare eventuali errori la nostra app prevede l'elenco degli elementi della to-do list l'inserimento, la modifica, la cancellazione operazioni che andranno eseguite effettivamente da un nostro repository reale che implementa il data repository visto pochi minuti fa chiamiamo questa classe SQL repository spostandoci, come potete immaginare, nella cartella repository così l'editor ci accorge subito che qua stiamo violando il contratto di implementazione mancano i metodi implementati in concreto facciamoci aiutare dall'editor usando control. lo faccio ora per vederci proporre l'implementazione dei sei metodi messi prima nella classe astratta e che adesso mancano fermi tutti però, manca un particolare prima di poter procedere il solito paio di dipendenze già lo sapete, sto andando ad aprire il file pubspatch.yml queste due occhio sqflite come al solito salvate e lasciate al lead il compito di recuperare quanto serve e iniettarlo nel progetto la classe repository di prima definisce le operazioni sul database ma ci serve anche introdurre il database stesso lo faremo tramite una classe che aderisce al pattern singleton essa ci permetterà di accedere al database in locale oppure provvederà a crearne uno se il database non esiste singleton significa che il suo costruttore sarà privato non lo potremo quindi richiamare per creare neanche un'istanza noi direttamente in realtà aggiungeremo una variabile statica final che richiamerà il costruttore creando un'istanza accessibile poi dall'esterno ma una sola metteremo il tutto nella classe db provider dentro la cartella repository abbiamo detto db provider ecco la classe dopo i necessari import e questo è il modo in cui si va a definire un costruttore privato in pratica è un costruttore nominale in cui nome è costituito dall'underscore che sapete marcare gli elementi che sono appunto privati di una classe il costruttore viene richiamato un'unica volta quando viene attivata la classe per inizializzare questa sua variabile statica che richiamo appunto il costruttore privato nessun altro potrà richiamarlo l'oggetto database viene memorizzato in questa variabile di tipo database questa è chiaramente una classe che proviene dal package sqflite sqlite api e quando dall'esterno richiameremo questa property il getter asynchrono se il database è già stato agganciato cioè l'oggetto non ha un riferimento null allora ci limitiamo a restituirlo se è la prima volta allora si valorizza la stessa variabile con il risultato restituito dal metodo initdb anch'esso privato e poi si restituisce la stessa variabile underscore database andiamo a vedere cosa fa la initdb recupera il path della cartella corrispondente documenti abbiamo già discusso un po' nei video precedenti con catena il nome che si vuole dare al database stesso e poi si restituisce il risultato del metodo sempre da libreria open database che predispone come si fa a intuire il nome il database e l'utilizzo se già esiste altrimenti lo va a creare per gestire questi due scenari ha bisogno del path con cui andrà a verificare la presenza del file in pratica è una versione dello schema da utilizzare che di per sé forse è anche opzionale però quando c'è innesca la possibilità di chiamare le funzioni di callback questa permetterebbe di fare alcune operazioni all'apertura quando c'è poi è stato verificato che esiste un vecchio database al momento non interessa nulla per cui non facciamo nulla col parametro db con cui verrebbe invocata la funzione anonima il corpo delle istruzioni è infatti vuoto diversa invece la situazione quando viene richiamata la callback specificata nel parametro oncreate non hai trovato il database chiama questa funzione per farci che cosa richiamare il metodo execute del comando SQL createdable chi mastica un po' di SQL riconoscerò la sintassi che va a creare nel nostro caso specifico una tabella chiamata items e a seguire tra parentesi tonde separate da virgola le proprietà di ogni colonna di questa tabella l'id in alto incremento che è la chiave primaria poi il resto è abbastanza comprensibile un titolo campo carattere obbligatorio stessa cosa per la descrizione e quello che la volta scorsa era un bool qua diventa un bit 0.1 che andremo a mappare abbiamo visto poi prima nel model su un int è previsto anche il metodo close che richiama il close sul database per restituire le risorse occupate al sistema ma la flessibilità che ci viene offerta il meccanismo del repository ha comunque un altro piccolo prezzo che dovremo pagare e cioè per rendere compatibili i nostri models con il database dovranno essere convertiti in mappe di dart oggetti map perciò dovremo dotare ogni model di due metodi to map e from map per le due direzioni di scambio dati per fortuna la cosa è più semplice di quello che sembra perché dart mette a disposizione una libreria dart convert per fare i vari passaggi di più è sempre un assist per i pigaroni come me potremmo addirittura avvalerci di un sito che ha inserito un modello di questa mappatura ci sforna il codice dart pronto all'uso qui sulla sinistra andremo ad inserire il nostro esemplare di oggetto json questo in pratica un record della nostra tabella cambiate anche qua il name in to do item ho che però a selezionare qua nelle opzioni come linguaggio non swift ma dart ecco fatto prendiamo allora questo codice e andiamolo a sostituire in quello bozzato qualche minuto fa nel file to do item punto dart voilà altro piccolo step è andare ad aggiungere un riferimento un oggetto db provider in sql repository prima di implementare poi i metodi e adesso come si diceva passiamo all'implementazione completando lo scheletro dei metodi vuoti che ci ha generato l'editor come promessa sottolineiamo che di per sé la libreria sqflite metterebbe a disposizione due modalità per invocare i comandi di cui una in modalità cosiddetta raw grezza che di fatto usa quasi direttamente stringhe di comandi sql il che consente volendo di sfruttare tutte le caratteristiche specifiche di quei sottodialetti quelle varianti che a volte trovi in mysql qualche volta trovi in sql express e così via però noi ne vedremo in questa modalità soltanto uno di metodo e cioè il metodo add per gli altri faremo riferimento a una forma più ad alto livello andiamo perciò qua nel metodo add a sostituire il codice con questo e ah si serve anche questo ah già qua sync tutto sommato codice abbastanza lineare qua recuperiamo riferimento al database col meccanismo c'è non c'è se non c'è creamolo visto prima non c'è rischio di creare n instanze e di creare database grazie al pattern singleton ricordiamocelo andiamo tranquilli non penso ci sorprenda il fatto che il metodo restituisca un id che è la chiave primaria dell'elemento item appena inserito nella tabella spesso ci servirebbe add riceve quando ne evocheremo i dati dell'item cioè il titolo descrizione se è completato o no che saranno utilizzati per completare qua il comando insert into occhio qui non ci stiamo preoccupando di problemi per semplicità legati a sql injection sanificare la stringa sfruttare il meccanismo dei prepare statement che ha seguito la mia playlist o pkp sa di cosa sto parlando andiamo tranquilli il focus è su altro questo è il metodo per i metodi restanti utilizzeremo invece l'altra modalità che è un pochino più ad alto livello questo lo commentiamo allora lo otteniamo come esempio e lo sostituiamo con questo ci appoggiamo al metodo insert tabella coinvolta serializzazione json dell'oggetto item sfruttando i metodi che ci ha generato il sito quicktype tra parentesi potremmo l'abbiamo scritto qui poi commentato anche aggiornare l'oggetto item ricevuto con il nuovo id ottenuto passiamo adesso al metodo get all recuperato un riferimento al db richiamiamo il suo metodo asincrono query e indicando solo la stringa con il nome della tabella in pratica stiamo comandando un select asterisco from items in realtà potremmo qualificare in modo molto preciso la query lo vedete nei parametri di cui l'unico obbligatorio posizionale è proprio il nome della tabella specificando anche un criterio where di raggruppamento group by e having da usare in accoppiata con group by order by eccetera il risultato ci è restituito in una lista di mappe dove ogni map corrisponde un record la chiave di accesso è il nome della colonna e il dynamic è il valore ovviamente quello che vogliamo far restituire alla get all è però già una lista convertita in oggetti ecco perché richiamiamo su data cioè i dati estratti il metodo map che richiamerà su ciascun item la funzione anonima che si limiterà a riconvertire usando il metodo from json sempre quello regalato come codice dal sito quicktype ecco adesso abbiamo il minimo per poter cominciare a pensare alla parte dell'interfaccia ne riparleremo però nella seconda parte di questa lezione nel prossimo video a risentirci o i Grazie.